ciao a tutti sono matteo e benvenuti a questo corso dove imparerete le basi di javascript per essere un frontend developer è necessario conoscere javascript è ormai utilizzato in ogni sito web è utilissimo ed è ottimo come primo linguaggio da imparare nel frontend development che nei siti web sarebbe la parte che l'utente vede e con cui può interagire ci sono tre linguaggi html css e javascript con html inseriamo il contenuto della pagina con css ne modifichiamo il contenuto e con javascript possiamo rendere il sito dinamico ovvero farlo interagire con l'utente creare animazioni e molte altre cose che adesso vedremo javascript è nato nel 1995 con lo scopo di aggiungere alle pagine html la possibilità di essere modificate in modo dinamico ma javascript è rapidamente cresciuto e ora è utilizzato in pratica in tutti i siti del mondo nella parte frontend il web è pieno di documentazione per apprenderlo al meglio e con il tempo sono nate librerie e framework per facilitare il lavoro dei developer una delle librerie più famose è jquery in pratica offre parti di codice già scritte da altri e pronte all'uso vedremo bene questo tema comunque nei prossimi corsi la cerba ma javascript non è solamente utile nella parte frontend infatti può essere utilizzato anche come linguaggio back end grazie a node.js uno strumento utilissimo per utilizzare javascript come linguaggio server site ma vediamo qualche esempio delle modalità in cui possiamo trovare javascript nei siti possiamo creare come in questo caso gallerie d'immagini ad esempio quando clicco su un'immagine posso ottenere con javascript effetti di questo tipo anche in questa pagina posso ottenere questo effetto di scorrimento con javascript e creare un menu a scomparsa di questo genere con javascript posso anche creare videogames per il web come questo e come vedete le possibilità di lavorare con javascript sono veramente illimitate per creare cose di questo genere occorre ovviamente studiare e praticare molto ma questo corso vi darà delle solide basi con cui iniziare il vostro viaggio nel mondo di javascript c'è da dire un'ultima cosa molto importante javascript non è java a volte ci può essere confusione se uno è le prime armi ma occorre solo tenere a mente questo javascript non è java nonostante il nome possa trarre in inganno